Il principio è questo, io e giorni che sono tanto assalto da un'attività piuttosto che un'altra, da un consigliere magari comunale piuttosto che un altro che per carità qua tutti vogliamo riaprire, ma voi pensate che si può riaprire senza avere gli accorgimenti basilari, qua ci vogliono i mascherini per tutti, qua ci vogliono i guanti per tutta una serie di attività, ci vogliono i sanificanti per una serie di attività, non ci sono ancora, sono queste ora le questioni di cui dovremo occuparci la prossima settimana, chi c'è in deve dare queste cose? Qua ancora si parla di riaprire e ancora noi siamo senza i dispositivi di protezione individuale, tutti i presidi sanitari, ma chi è che si può permettere di bruciare 40 giorni, 40 giorni di sacrifici? La Messina si fa così e non perché comando io, perché io mi prendo la responsabilità fino in fondo di tutelare la salute della mia comunità, quindi non ci sono modifiche in questo momento all'elenco delle attività commerciali, quelle che abbiamo ritenuto per buonsenso, aprire le abbiamo aperte, il resto guardate non è una questione di buonsenso, capisco è una questione di comodità, capisco che a bambini bisogna fare il cambio, tutto quello che volete, ma in questo momento a casa siamo, quindi dovete perdonarmi, avete ragione, 40 giorni ci siamo sacrificati dentro, io vi chiedo ormai di completare questi altri 10 giorni, perché abbiamo due momenti importanti, il 25 aprile, che pretendo lo stesso comportamento che abbiamo tenuto il lunedì di Pasqua e il 1 di maggio, e lo dobbiamo completarla questa fase, perché ora dobbiamo anche pensare, perché mi arrivano ancora segnalazioni giustamente che non hanno le mascherine, noi Max ne abbiamo credo distribuito immediatamente 2.000 al giorno, per quello che abbiamo potuto fare, perché vi voglio dire che ancora non sono arrivate le mascherine della protezione civile, quando sono arrivate? Ieri. 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 Quante ne sono arrivate? Non lo sappiamo, quante ne sono mandate? 353 confezioni. Da quanto? Da 50. Quindi 350 per 50 dobbiamo fare nuovamente il coso, la gara, sono 16.000, no? Più vanno 18.000. Oh, 18.000, bene. E a che facciamo ridere con 18.000? Già abbiamo iniziato a distribuire le circostruzioni. E allora, vi voglio fare capire come stanno le cose, io voglio le mascherine date a tutti, perché vi dovete abituare, lo dice la comunità scientifica, non lo dice il sindaco di Messina, sappiate che per almeno un anno la nostra vita è cambiata, non ci potremo abbracciare, non ci potremo baciare, non ci potremo stringere la mano, non potremo stare vicini e dobbiamo proteggerci e proteggere chi sta a un metro e mezzo, a due metri, ci sono le varie teorie di queste piccole cellule che vengono trasmesse con la saliva, con lo starnuto. lo capite che noi avremo un anno, che la previsione è che ci vuole almeno un anno per avere il vaccino. E allora quando si parla di riaprire, io vi indigno, perché prima di riaprire bisogna affrontare il tema di dare i dispositivi di sicurezza individuale dal singolo cittadino a chi fa certi lavori esposti alla clientela, a chi sta nei presidi sanitari. Grazie. Grazie.